Già di scuola, la facciamo tutto uguale, allora lo potremo fare, lo potremo fare, siccome è una delle prime, quando eravamo in fondo, si dice, ah facciamo qualcosa, se potremmo rubare, o almeno in passione, non prendiamo più passione adesso, fare la prima calcina, comunque siamo pieni di giacchi, scoppiamo, la seconda si è un po' più Ok? va proprio finito. Per me un questo, un televisio, tra queste treasure e queste versioni lunghissime, possiamo fare all of this, ci siamo fatti due versioni ben distinte, possiamo fare la prossima versione tutta. Quindi tipo pa pa pa, papam, pa 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 pa... Però non ripeterei due volte, due vai dire, tutti i brani... Dopo che abbiamo finito i brani... Ma se facciamo un'oretta fine... Appunto un'oretta la fai, io personalmente non ce l'ho di ripetere due volte di stessa, non posso capire ancora... Ma questo puoi ripeterlo, ma però è in un'altra versione... Ma se no per me, piccola verità, io di ripetere più di una volta... Ma se la gente arriva tutte le 8, capito? Iniziamo a suonare un po' più tardi... E poi ti dice fornare 6 metri che ti devo dire, capito? Iniziamo a suonare un po' più tardi... Ma se ti buono, mi ne facciamo ancora una volta e magari un paio di quelle lì... Cioè anche quando vabbè dei concerti, a volte fanno una persona di certi parte... E quindi sono così, perché si chiama bis... No, io si prendo un altro petto, di solito non lo ti fa, non lo ti fa... Non lo ti fa, non lo ti fa, non lo ti fa... Il bis, uno lo fa ancora e gli dice... Ehi, io senti ancora quella... Ciao! Oh, tu lo sielo a meeeeee! Ehi, io senti ancora un po' più tardi... Ehi, io senti ancora un po' più tardi... Ehi, io senti ancora un po' più tardi... Ma non lo fai allora... Tu, 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 tu... Sì, perché c'è intro... Sarebbe l'intro col... Ah, d'accordo! Io senti... Ok, insieme entriamo? Sì. Mi raccomando, il punk è importantissimo. 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Grazie a tutti. 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 Abbiamo... Grazie a tutti. Facciamo la regola così, facciamo la regola così Con la regola però si facciamo un po' più ritmetterlo Si, in realtà è più che non c'è, nel senso è più... è più così, capito? Così è proprio ritmetterlo Siamo un po' più... No, lo sai, lo hai fatto mio In realtà è troppo... Se si senti avicinato. Capri spinguti! No, lo sai, lo sai... Pagliari! Pagliari! Non, la squadra! La squadra! Non, la squadra! Non, la squadra! Grazie a tutti. 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 Ci siamo? a tutti. 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.